ed ecco una bella fiaba originale italiana con protagonista una piccola lucciola un giorno una lucciola neonata venne chiusa in un barattolo di vetro da un ragazzaccio che voleva farne un lume per la sua lanterna per fortuna passarono da quelle parti alcune api impietosite dalla fine che sarebbe toccata la piccola lucciola circondarono il monello e gli ronzarono intorno a pochi centimetri dalla faccia lui si spaventò molto e come se si spaventò agitò le mani e le braccia per scacciarle e nel far questo il vasetto gli cadde e si ruppe non ci pensò e se la diede a gambe levate la piccola lucciola allora uscì dal barattolo rotto vide le api e pensò che fossero lucciole per cui le seguì le api allora l'adottarono e lei crebbe proprio come se fosse una di loro con il passare del tempo pur trovandosi bene con le sue compagne la lucciola che ormai si credeva un'ape si rese conto della sua diversità una sera chiese all'ape regina mamma perché noi api vogliamo solo di giorno e non di notte la regina non le disse che era stata adottata perché aveva paura di farle un dispiacere ma non aveva grande esperienza di lucciole a malapena sapeva cosa fossero e non capiva fino in fondo quale fosse il loro modo di vivere cara le ore di luce sono per lavorare e nutrirci le altre per riposare è sempre stato così ma ma io di giorno sono e invece mi piace svolazzare di notte la regina non sapeva che fare cantò una ninna nanna quella che ormai amava come una figlia le diede un bacio sulla testolina e andò via assestandosi la corona e sospirando la lucciola però non riusciva ad adattarsi al ritmo delle api di notte non dormiva e di giorno mentre le api volavano di fiore in fiore si nascondeva sotto le pietre in posti bui e freschi qualche ape la prendeva anche in giro guardala sempre al buio come ti farebbe bene un po di sole e di polline qualche altra invece era più cattiva se non produci miele sei proprio inutile vivi alle nostre spalle la lucciola soffriva molto si sentiva in qualche modo sbagliata iniziò allora a piangere tutte le notti ma con tutti quei lamenti le api non riuscivano più a dormire provarono a farle bere delle tisane a base di papavero e poi anche di camomilla ma non servirono a nulla e così le api di giorno erano stanche e lavoravano poco e male la regina decise quindi di rivolgersi alla saggezza del gufo per avere un consiglio sul da farsi una mattina andò alla vecchia quercia sulla quale il gufo di giorno dormiva ehi saggio sapiente ehi gufo ehi sveglia sveglia il gufo quasi cadde dal ramo per lo spavento ma che succede ma non sto dormendo e figuriamoci sto 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 pensando ecco sto sto pensando a per regina perché tanto baccano la regina gli spiegò tutta la situazione e alla fine disse e adesso però non ci fa dormire e se le mie api non dormono non possono lavorare e se non lavorano non producono il miele questo sarebbe un bel problema per tutti forse è arrivato il momento che lei sappia chi è veramente che lei sappia che non è un'ape ah ma così potrebbe soffrire io io non ce la faccio a dirglielo capisco facciamo così stasera le parlerò io e così quando venne la notte il gufo andò dalla lucciola ciao piccola perché ti disperi ma perché non sarò mai come le altre api certo che no perché vedi qui tutte ti amano e di questo puoi esserne certa ma tu ti sei accorta che non sei proprio esattamente come loro non riesci raccogliere bene il polline non ti piace la luce del giorno stai sveglia di notte però tutto questo non è una colpa è che tu sei sei una lucciola non un'ape la lucciola lo guardò sconcertata una lucciola che cos'è una lucciola vieni con me ti farò vedere e il gufo volò via nella notte la lucciola lo seguì lei si sentiva suo agio nel buio sotto la pallida luce lunare d'un tratto mille lucine apparvero dai cespugli lei distinto riconobbe la sua gente capì che il gufo aveva ragione non era in qualche modo inadeguata prima era solo nel posto sbagliato seguì il ritmo dei suoi simili e anche lei iniziò a risplendere non l'aveva mai fatto prima perché nessuno l'aveva mostrato come fare ma adesso risplendeva risplendeva più di tutti il gufo soddisfatto e anche un po commosso se ne andò nella notte e così la lucciola visse felice e contenta molto spesso andava all'alveare a far visita alla regina e le api passavano a salutarla portandole in dono un po di miele furono sempre amici e lei non dimenticò mai chi le aveva fatto del bene e ne fece molto a sua volta perché il bene è come un raggio di luna che si diffonde nella notte non lasciando all'oscuro nessuno ma adesso la nostra piccola lucciola che prima si credeva un'ape sapeva che ognuno deve essere quel che la sua natura gli dice vi è piaciuta questa storia seguiteci e iscrivetevi al canale storie favole fiabe per bambini sempre nuove a presto